E' partito dalla sede dell'Ajac Calabria, l'associazione italiana allenatori calcio di Santa Caterina sullo Ionio, il corso allenatori UEFA-C, organizzato dal settore tecnico della FIGC, che abilita i partecipanti, più di 30 provenienti da tutta la regione, all'allenamento di tutti i settori giovanili d'Europa con docenti di livello, come l'allenatore Vito Tammaro e il preparatore atletico e docente di metodologia Gino Mondilla, e che si articolerà in 124 ore di lezione fino al 1 luglio. E' un orgoglio e una soddisfazione per noi, il settore tecnico, che è l'organizzatore di questo corso, ha deciso di assegnare il supporto logistico alla nostra associazione, speriamo che le competenze acquisite in questo corso vengono poi riportate per la crescita e la formazione dei nostri giovani. All'apertura dei lavori anche il vicepresidente della provincia di Catanzaro e presidente del GAL delle Serre Calabresi, Marseale Battaglia, e il presidente della commissione regionale antindrangheta, Arturo Bova. Sono gli allenatori dei giovani, quindi oltre ad insegnarli il gioco del calcio, sono anche maestri di vita, cioè insegnano loro a formarsi ed avere quelle peculiarità come genitori, come allenatori, come cittadini, ad insegnare le buone regole. Quello che stanno facendo a Santa Caterina è sotto gli occhi di tutti, l'impegno nel mondo dello sport, del calcio, allenatori, ragazzi, arbitri, veramente è esemplare. Non sono venuto qua a parlare di legalità, sono venuto ad apprendere un pochettino di legalità, perché fa bene anche a me venire in questi ambienti che formano tutti quanti. Rossella Galati per la CNews 24